Itinere è un'iniziativa di promozione turistica di eccellenza di valenza interregionale che coinvolge Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Sardegna ed Umbria e nasce con l'obiettivo di valorizzare e promuovere elementi comuni dei territori del centro Italia. Il progetto si svilupperà in sintonia con la sempre più frequente esigenza di turismo attivo, esperienziale e motivato.